Un cordiale saluto e ben ritrovati anche per la pagina sportiva del TG Noi che apriamo con il calcio, ore decisive per il ripescaggio, ma la lucchese è da considerare virtualmente in Serie C. Ci siamo. La giornata di lunedì 19 luglio si combinerà con quella del 27, quando arriverà poi la conferma ufficiale. In tema di date, il 28 sempre di luglio, ci sarà la composizione dei tre gironi di Serie C, con probabile taglio orizzontale dello stivale. Ma di questo avremo modo di anticipare ghiotte e novità nei prossimi giorni. Stavolta la corsa verso Firenze prima in Lega Pro e poi Roma dei dirigenti della lucchese è stata senza dubbio meno frenetica di quella drammatica di due anni fa. Stavolta, e la sensazione ma non solo quella, l'abbiamo ormai da giorni, è che con grande sacrificio e abnegazione si sono trovate le risorse necessarie per ricollocare la Pantera laddove il campo, solo un paio di mesi fa, l'aveva clamorosamente respinta. La giornata di lunedì 19 costituiva al termine ultimo una sorta di ultima frontiera per presentare le domande di ripescaggio e iscrizione con relative fideiussioni, da 300 e 350 mila euro, oltre al versamento di ulteriori 300 mila euro a fondo perduto per il ripescaggio e 50 mila per l'iscrizione. Sfioriamo il milione di euro. Espletato tutto ciò non ci sono timori per i possibili ricorsi al collegio di garanzia di Coni e Altar del Lazio, poiché è già stato chiarito che le sei squadre bocciate dalla Covisoc eventualmente saranno riammesse al campionato in sovrannumero. A questo punto non ci resta che attendere, ma sarà Serie C. Il fatto stesso che l'inizio della preparazione della Lucchese 21-22 sia sdittato all'inizio della prossima settimana fa capire che nelle prossime ore entrerà in scena anche il mercato. Pagliuca scalpita e ha già dato indicazioni per l'allestimento di una squadra che sappia reggere bene l'urto di un campionato difficile e disputare, stavolta, una stagione senza troppi patemi d'animo. Passiamo all'atletica leggera. Una probante conferma di una ritrovata condizione di forma. Così idea Pieroni della Virtus Ducca esce rinfrancata dai campionati europei under 20 svoltisi a Tallin in Estonia. Quinto posto per la saltatrice barghigiana del gruppo sportivo Carabinieri con la misura di metri 1,83. Idea peccato perché ha sfiorato davvero gli 1,86 che le sarebbe valsa la medaglia di bronzo. E prova convincente nel pugilato anche da parte di Lorenzo Frugoli della pugilistica lucchese che era impegnato a Caserta nel contest match youth tra Italia e Polonia. Il giovane pugilista lucchese ha battuto i punti nella categoria dei 75 kg. Lo scorbutico polacco Muhammad Ali Karimov da aggiungere sempre per la pugilistica. Il pari di Ashraf Lecal nella categoria junior 66 kg a Padova contro Nicola Buggio nel confronto interregionale giovanile Veneto-Toscana. Siamo alla pallavolo. La stagione agonistica è ancora abbastanza lontana ma intanto ci sono ghiotte e novità sul conto della Nottolini Volley Capannori. Grande restyling alla Nottolini Volley Capannori con un progetto di primissima fascia, dalla rafforzata partnership con la Savino del Bene, società blasonata che da anni milite na uno, fino all'ingresso del team manager Francesco Tempestini. Tutto ciò ha dato via ad un progetto ambizioso che oltre alla B1 vedrà la Nottolini in un'altra categoria nazionale, quale la B2. La squadra, fidata a Davide Ribechini, sarà formata da ragazze selezionate di grande prospettiva Under 18, provenienti non solo da settore giovanile ma anche da fuori regione. Tornando alla prima squadra, il direttore sportivo Ronzo Miccoli, dopo aver incassato il colpo di varie partenze, ha effettuato un oculato lavoro insieme al presidente Paolo Gradi e al direttore tecnico Stefano Capponi per il rafforzamento della squadra. Partite Magnelli, cessata attività, Mutieroni, sponda la Spezia, mentre la Ceragiole è finita a pescia. Dunque la Nottolini 21-22 sarà composta da Bresciani, nuovo capitano, e Romani al palleggio. Opposti le confermatissime Coselli e Lunardi. Libero la Battellini, che aveva offerte da categoria superiore ma che ha creduto nel nuovo progetto. Il secondo libero sarà Diletta Mazzoni, rientrata da Pistoia. Al centro rimane Benedetta Catani e la new entry Gemma Bianciardi, altra vecchia conoscenza, visto che in passato, nel 13-14, aveva già vestito la casacca bianconera. Altra novità di rilievo, Valentina Varani, classe 2002, 1,90 m, proveniente dall'argentario Trento, con passati a Roma e Sassuolo. Nel ruolo di schiacciatrici, dopo la splendida passata stagione, ci sarà ancora Rebecca Sciabordi e Lara Salvestrini, cavallo di ritorno, con un passato in A2 lo scorso anno a Quarrata. Per completare il roster, siamo alle battute finali con la classica ciliegina sulla torta, che il direttore sportivo Ronzo Miccoli annuncerà nei prossimi giorni e si parla di una forte schiacciatrice. Ciclismo, Raffaele Mosca vince il sesto premio, il sesto gran premio Garfagnana categoria Juniors. Vediamo la foto dell'arrivo, il forte portacolori del team Forno Pioppia, preceduto di un secondo il Ligure Andriano Viero Raccagni e di tre Florian Samuel Cajamini. La corsa, ricordiamo, ricordava il grandissimo Gino Bartali, tra l'altro proprio nel giorno della sua nascita, che avvenne il 18 luglio del 1914. Un ampio servizio su questa corsa nelle prossime edizioni del Tigino e Sport. Il tennis, impegno ad est per Jessica e Tatiana Pieri, che nelle prossime ore entreranno in scena nel tabellone principale di due tornei in Repubblica Ceca e in Ucraina. Jessica Pieri, a sinistra della foto, a Dolomuk, torneo da 60 mila dollari, se la vedrà con l'australiana Shawn Mendes, mentre Tatiana, nella foto a destra, al torneo di Kiev, con Montepremi da 25 mila dollari, affronterà l'Ucraina Anastasia Zaritschka. Chiara Tessaro sarà il nuovo responsabile generale del progetto mini basket della polisportiva Capannori. Un anno dopo essere stata assistente della Famila in A1 e del Rolega Femminile, oltre che vice al Sarcedo Basket in A2, la Tessaro ha deciso di tornare in Toscana ed esattamente appunto alla polisportiva Capannori. È tutto per quanto riguarda la pagina sportiva del TG Noi. Una breve pausa e subito dopo il TG si completa con la terza ed ultima parte.